ora la caccia e ora la caccia si i camoni di tutti che parlano di Matalazza e roba si e noi ci facciamo pure orca assassina capisci? non sapevo cosa è? no tu scrivi sei pagliaccio hai fatto pagliaccio con il Miraggio no a me non mi risulta questo stupido un pagliaccio sei tu dai faccio pagliaccio hai 10 anni che sei così cretino vermiciatola non mi risulta che ho fatto amici con il Miraggio sei cretino informati bene cretino io sono un uomo con tante cose sono preciso e corretto vado con le mie regole stupido informati viene tropea e vedi come stanno le cose vaffanculo pagliaccio au